Benvenuti all'ultimo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. L'ondata di maltempo delle ultime ore ha provocato in tutta la regione diversi disagi. Vediamo la situazione nella Locride. Una fortissima ondata di maltempo si è abbattuta stamane in Calabria. La situazione più critica ha riguardato il regino meridionale. Nelle scorse ore ha piovuto intensamente anche nella Locride in particolare. Forti raffiche di vento hanno attraversato il territorio caoloniese, scoperchiando una casa nella frazione di Focà, facendone volare il tetto. La furia del vento ha sdradicato alcuni alberi sulla Statale 106, interrompendo così la circolazione tra Caolone e Stignano. Alcuni alberi d'ulivo poi si sono abbattuti sul tetto di un'abitazione, causandone il crollo. A Siderno, danni nel centro storico, qua alla forte pioggia, si associa all'incuria nella pulizia dei tombini, così come ci segnalano gli abitanti di Siderno Superiore. Nel centro storico di Siderno, da sempre, ad ogni pioggia, anche di bassa intensità, provoca allagamenti lungo la strada principale di via Santa Caterina. Come vediamo dalle immagini, infatti, l'abbondante precipitazione ha provocato l'inalzamento del livello dell'acqua, cagionando l'allagamento di alcune abitazioni e dell'unica farmacia del centro. L'ondata di maltempo, ci si precisa, non è finita e allerta per tutta la giornata di oggi. La situazione delle precipitazioni è costantemente però monitorata dalla Protezione Civile Regionale, che si avvale anche al sistema di rilevamento pluvimetrico diffuso sul territorio e collegato in tempo reale con la Sala Operativa Regionale. La Protezione Civile Regionale, che è in contatto con i sindaci delle aree ritenute a più alto rischio, ha allertato e preallertato tutte le associazioni di volontariato. In particolare, si raccomanda di evitare per la giornata di oggi i sottopassi e le aree prossime ai corsi d'acqua. E il maltempo ha creato disagi anche sulla strada statale 18 tra Bagnara Calabra e Scilla. Ancora frane sulla Bagnara Scilla, in più punti del tracciato della statale 18 tra i due comuni della Costa Viola si sono verificate frane, smottamenti, colate di fango e detriti. Coinvolta, tra l'altro, senza alcun danno per l'automobilista alla guida, una Fiat Punto che transitava verso Scilla. Le forti piogge cadute stamane su Bagnara hanno causato notevoli disagi su un territorio già duramente colpito dagli incendi che hanno interessato, nelle scorse settimane, vaste porzioni di territorio tra Scilla e Bagnara. Ancora ieri la Costa Viola ha subito due grossi incendi che hanno tenuto in apprezzione, per gran parte della giornata, i cittadini dei due centri. Circolazione bloccata e pronto intervento delle squadre ANAS, fin da subito impegnate a rimuovere la gran quantità di fango, massi e detriti che si sono riversati sulla statale 18 in almeno tre punti, tra il chilometro 505 ed il chilometro 511. Sul posto, oltre alle ditte incaricate per la rimozione delle frane, personale ANAS, Polizia di Stato e Carabinieri di Bagnara Calabra. L'obiettivo è quello di riaprire al più presto al transito la statale. Ed ancora una volta si ripresenta il problema delle frane sulla strada che collega Bagnara Scilla e quindi allo snodo autostradale. Non è la prima volta e facendo i dovuti scongiuri non sarà l'ultima e probabilmente non è solo colpa del maltempo e delle forti piogge. Nel periodo invernale non solo si rischia la vita, lo dimostrano i tanti incidenti causati dalle frane o dai massi venuti giù dalla montagna negli ultimi anni. Chi ha la competenza e la responsabilità intervenga su quei pochi chilometri che collegano le due cittadine della Costa Viola, prima che, oltre al fango e ai detriti, i mezzi di soccorso siano chiamati ad intervenire per tragedie ben più gravi causate dall'incapacità di programmare adeguati e finalmente risolutivi interventi. A Vibo Valencia, vicino ai mercati generali, si trova una discarica a cielo aperto. Non c'è dubbio che la questione della raccolta dei rifiuti rappresenti per la città di Vibo Valencia il problema dei problemi, mentre diversi assessori all'ambiente in due anni e mezzo cumuli di spezzature e cassonetti marridotti. Ma, stando agli annunci dell'amministrazione comunale, dovremmo essere ormai vicini alla svolta. Conclusa l'operazione consegna dei kit, infatti, dal prossimo 15 settembre la raccolta differenziata col porta a porta sarà attuata su tutto il territorio comunale. Si risolverà definitivamente questa annosa questione? La risposta non sembra così automatica. Questo perché, a ben vedere, la questione appare più complessa e tocca direttamente il senso civico della cittadinanza che a Vibo Valencia sembra essere stato accantonato ormai da tempo. Dalle vie del centro alla periferia, quel che si vede è sconfortante. Queste immagini, fresche di giornata e bene precisare, mostrano infatti un altro scempio ambientale. L'ennesima discarica a cielo aperto dove chiunque si sente autorizzato a buttare di tutto, con ammenefreghismo ed assoluta mancanza di rispetto. Una totale inciviltà che comporta, in questo caso addirittura, l'invasione della strada ostruita da rifiuti di ogni genere. E pensare che questa è una strada dell'area industriale di Vibo Valencia, 100 metri dalla statale 18, quasi di fronte al complesso militare dove è sede il 14esimo battaglione Carabini di Calabria. Eppure, malgrado ciò, questa masnada di incivili non si è fatta scrupolo di lasciare rifiuti di ogni genere. Materassi ed elettrodomestici, resti di mobili insieme ad altri ingombranti, sacchi di immondizia indifferenziata sparsi pericolosamente alla merce di randaggi, intemperie e scorerie varie. Intanto, tra non curanza, vandali ed incivili, Vibo Valencia programma il salto di qualità con l'abolizione dei cassonetti e la differenziata porta a porta, ma la vera differenziata. Bisogna farla nella mentalità di persone completamente estrane all'idea di una civile convivenza. La persona dispersa da ieri pomeriggio nella zona di Cropani è stata ritrovata. Si tratta di un turista tedesco di 80 anni che si era allontanato nelle prime ore del pomeriggio di ieri dall'agriturismo Torre del Golfo di Cropani Marina. L'uomo è stato ritrovato stamane lungo la strada che collega il comune di Botricello a Belcastro. Il ritrovamento è avvenuto da parte di alcuni abitanti della zona che prontamente hanno avvisato i carabinieri e i vigili del fuoco. La persona ritrovata era cosciente, presentava alcune scorazioni, ma in definitiva in buone condizioni di salute. È stato consegnato alle cure del 118 che ha provveduto al trasferimento in ambulanza presso l'ospedale pugliese. E cambiamo argomento. Il sindaco di Cosenza Mario Chiuto ha disposto nei giorni scorsi la chiusura al traffico della centralissima via Misasi. Ascoltiamo i pareri dei commercianti e dei residenti. Le scelte radicali dividono sempre l'opinione pubblica, specie quando a farle è un amministratore. Come nel caso del sindaco di Cosenza Mario Chiuto, il quale è inteso interdire al traffico il tratto di via Misasi, che comprende due scuole, e la parallela di via Re della Repubblica. Un provvedimento, come annunciato dallo stesso qualche giorno fa, che rientra in quella politica attuata da questa amministrazione la quale intende rendere pedonale il centro della città di Cosenza, ma che allo stesso tempo ha provocato una serie di reazioni, sia tra i residenti che tra i commercianti. Secondo me è una pazzia che hanno fatto. Ho fatto per la scuola di via Roma, quella chiusura non lo so, per il parcheggio o meno. Bastavano due o tre vici che non facevano fermare le macchine e via. Per me forse non va bene, ma io non guido, non ho macchine, quindi... C'è i suoi pro e i suoi contro. I contro sono purtroppo per gli esercenti della zona, in quanto giustamente reclamano per il fatto che magari con un minor numero di macchine che passano, significano un minor numero di clienti. Dall'altro lato, qua, ricordiamo che ci sono dei bambini durante l'anno scolastico, sia le elementari che le medie, quante volte, per esempio, molte volte ho visto macchine che passavano sfrecciando e magari anche con il vigilante, con la paletta che segnava alto, passavano lo stesso, rischiando di creare incidenti. Secondo me è da sperimentare, se va bene continua così, se no penso ritorno indietro, però facciamolo lavorare. Diciamo che sabato ci ha messo una pezza il sindaco, bisogna vedere con l'apertura delle scuole che cosa succede. Secondo me non va bene, va rivista. Io sono un genitore che accompagna il bambino a scuola, ma non è tanto il mio, ormai è grande, frequenta la quinta elementare, quindi diciamo che autonomamente potrebbe anche avvicinarsi qui nei pressi, però è un po' disaggevole obiettivamente, anche perché io poi la mattina vado a lavorare, prendo l'autostrada, insomma si fanno un po' di giri, troppi giri. I cosentini che si abituano a nuove discipline, a nuove tragedie, la novità è una bella cosa, le critiche fatte fino a se stessi vanno bene. È possibile che a qualcosa di nuovo c'è sempre la critica, la critica deve essere costruttiva, non demolitiva, si può migliorare e le cose vanno bene. E come l'isola pedonale a Corso Mazzini? Nessuno la voleva, adesso i negozi sono aperti fino a mezzanotte. Allora di questa isola pedonale mi sembra una grande cazzata, uno, poi Corso Mazzini è stata fatta a isola pedonale, ma potevo neanche evitarla. Qua ha scosso, esclusivamente ha scombussolato Cosenza, l'ha ingasinata più di quello che era. L'ho detto stamattina al nostro illustrissimo sindaco che praticamente noi qua commercianti, da chi ha chiuso la strada, non entra più nessuno nei negozi. Perché comunque, come puoi vedere tu da fuori, noi siamo in una zona che se non arrivano da via Misasi, i clienti non hanno ragione di arrivare qui, perché da via Simonetta non scende più nessuno. Quindi noi abbiamo avuto un calo non del 60, non del 70, ma quasi del 100%, perché da che avevamo 30, 40, 50 visite al giorno in media, da quando ha chiuso la strada qui sono entrate due persone. I più contrari senza ombra di dubbio sono risultati essere i commercianti della zona che per venerdì prossimo hanno anche indetto una manifestazione a partire dalle ore 10. Sono passati ben 17 anni dall'alluvione che ha soverato provocò la morte di 13 persone che si trovavano nel camping Leggiare. Una solenne cerimonia ha commemorato le vittime di quella tragedia. Sono state commemorate le 13 vittime della tragedia del camping Leggiare di Soverato avvenuta il 10 settembre del 2000. Nell'occasione è stata inaugurata una stele in memoria di Vinicio Caliò, l'unica vittima di cui non è mai stato trovato il corpo. Alla cerimonia per ricordare l'esondazione del torrente Beltrame che provocò la morte di così tante persone, fra le quali alcuni disabili che partecipavano ad un campo estivo dell'Unitalsi di Catanzaro, assieme ai congiunti delle vittime, il sindaco di Soverato Ernesto Alecci, il consigliere regionale Arturo Bova, il consigliere comunale di Catanzaro Giuseppe Pisani, rappresentanti dell'Unitalsi, amministratori cittadini e forze dell'ordine. Quest'anno abbiamo voluto donare alla memoria di Vinicio Caliò un nuovo monumento, una vela in marmo che simboleggia l'avventura del corpo di Vinicio nei nostri mari. Noi vogliamo immaginarlo così, a solcare i nostri mari, a vigilare un po' sulla nostra costa. Tutti quanti noi nel comprensorio, ma credo tutta la Calabria e tutta la nazione, ha vissuto quei giorni con uno stato d'animo veramente difficile, perché le immagini erano forti e ci deve aiutare chiaramente a trarre anche un beneficio, cioè quello di curare il nostro territorio e di fare prevenzione. La lezione dell'Eggiare deve servire per tutti gli amministratori e non solo, lo dicevo prima, anche per i cittadini ad avere maggiore cura del territorio nel quale vivono e soprattutto vigilare affinché avvenimenti tristi come questi non debbano più capitare. Io sono sicuro che le cose stanno cambiando e avrei piacere che la protezione civile nazionale investisse un pochino di più sulle amministrazioni che spesso hanno tanta buona volontà ma pochissimi mezzi a disposizione. Sembra che le cose stiano per cambiare perché la volontà da parte degli amministratori c'è, la lezione l'abbiamo imparata purtroppo anche a causa di queste sciagure. Ora dobbiamo avere però i mezzi a disposizione per fare una prevenzione importante. E anche per oggi è tutto, io vi aspetto domani sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre a partire dalle ore 11 con la prima edizione di Calabria News 24. Grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti.